Questa non poteva mancare tra le curiosità di Ginevra 2016 perché con questa macchina, la 919 Hybrid, Porsche ha dominato la scena del Mondiale Endurance, ha vinto il titolo mondiale riservato ai costruttori, ha vinto il titolo mondiale riservato ai piloti e ha vinto soprattutto la 24 ore di Le Mans. Non questa in particolare, questa era la macchina di Dumas Yanni Lieb ma in quel caso hanno vinto il pilota di Formula 1 Nico Hülkenberg assieme a El Bamberg e a Nick Tandy. Mille cavalli, un V4, un piccolo motore quattro cilindri e poi la tecnologia ibrida per lo stato dell'arte della tecnologia, tecnologia che poi viene mutuata sulle autovetture da strada ma questo è il motivo di grande orgoglio di Porsche che dopo tanti anni è tornato alle corse Endurance e ha vinto dominando letteralmente la scena nel corso del 2014. Grazie